In caso di problemi con l'immagine o l'audio, quando si collega il televisore ad un dispositivo esterno, è possibile effettuare alcuni test rapidi per individuare la causa con facilità. Per scoprire come, guarda questo breve video. Accertarsi innanzitutto che la connessione al dispositivo esterno sia corretta. Se i problemi non si risolvono, eseguire un'autodiagnosi sul televisore, premere menu sul telecomando, scorrere verso il basso e selezionare Supporto. In Supporto, scorrere verso il basso e selezionare Autodiagnosi. In caso di problemi audio, selezionare Test audio nel menu Autodiagnosi. Il televisore emetterà un suono di prova. Rispondere ora alla domanda visualizzata sulla parte inferiore dello schermo in base ai risultati ottenuti. Se si risponde no, il problema non deriva dal televisore, per cui occorre scoprire altre cause possibili. Sullo schermo verranno elencati alcuni suggerimenti per la soluzione dei problemi. Rispondere Sì in caso di problemi di qualità audio. Verrà indicato di contattare l'assistenza clienti. Le istruzioni forniranno anche le informazioni pertinenti da fornire al personale dell'assistenza clienti. In caso di problemi di immagine, scorrere il menu Autodiagnosi e selezionare Test immagine. Quando viene chiesto, selezionare OK. Lo schermo mostrerà un'immagine di prova per vari secondi. Quando l'immagine scompare, verrà chiesto di rispondere alla domanda in base ai risultati ottenuti. Per rivedere l'immagine, selezionare Visualizza ancora. Se si risponde no, il televisore non è la causa del problema, per cui occorre scoprire altre cause possibili. Saranno elencate alcune spiegazioni per risolvere i problemi. Se la risposta è sì, verrà visualizzata un'altra immagine seguita dalla stessa domanda. Se la risposta è ancora sì, verrà visualizzata una terza immagine. Se il problema continua a presentarsi in tutti e tre i test, l'immagine presenta dei problemi. Verrà indicato di contattare l'assistenza clienti. Le istruzioni forniranno anche le informazioni pertinenti da fornire al personale dell'assistenza clienti. È possibile, inoltre, regolare un'immagine distorta modificandone la dimensione. Selezionare il pulsante menu sul telecomando. Selezionare Immagine e poi Dimensione immagine. Selezionare di nuovo Dimensione immagine. Scorrere le varie opzioni relative alle dimensioni. È possibile che sia stata impostata una dimensione immagine non adeguata al contenuto visualizzato.